Ed ecco a voi un nuovo video di quanto i migliori bot per Telegram Questa volta 2019 edition nel senso che premierò diciamo i bot che secondo me sono i migliori di quest'anno Potreste anche non conoscere i bot che vi sto per dire ma se avete visto tutti i video di questa playlist mi sembra un po' difficile Comunque questo video non è per farvi conoscere i nuovi bot ma semplicemente per fare una classifica appunto dei migliori bot di quest'anno E fate anche voi la vostra classifica, comunque commentate con il vostro bot preferito di quest'anno Insomma parliamo nei commenti e non perdiamoci in ulteriori chiacchiere possiamo cominciare subito dal quinto posto E per farvi capire il livello di questa classifica al quinto posto c'è VKM bot Il bot è più famoso per scaricare la musica Ci sono delle funzioni in più però per cui lo preferisco rispetto agli altri che ti fanno scaricare la musica Poi selezionate il metodo come volete ricercare la vostra canzone, vi mettete ad esempio song quindi la ricercherete E tramite il titolo della canzone scrivete il titolo della canzone e lui vi darà dei risultati Cliccate con il numero corrispondente del risultato e vi manderà il file Una cosa mi piace tantissimo è che quando vi manderà il file avrete la possibilità appunto tramite questi due cuori Se cliccate il cuore vi aggiunge questa canzone a una playlist Quando poi fate, e poi voi vi potete creare la vostra playlist Quando voi farete il comando slash my lui vi darà la vostra, vi mostrerà la vostra playlist In cui voi potete riprodurre appunto i brani uno dopo l'altra In modo molto ordinato, molto pulito e molto intuitivo Quindi per questo ho deciso di mettere questo in quinta posizione Nella quarta posizione ho deciso di mettere Linkgram Linkgram è il migliore bot secondo me per scaricare dei contenuti, video, audio tramite dei semplici link Come funziona appunto dal nome Linkgram? Copiate il link da YouTube, da SoundCloud, da qualsiasi cosa che comunque contenga un audio o un video Questo lo copiamo da YouTube per esempio, facciamo copia URL del video E lo incolliamo su Linkgram e lui ci darà la possibilità di scaricare il video con l'audio oppure solo l'audio E questa è una funzione che mi è piaciuta tantissimo Mentre nel caso ad esempio di download da SoundCloud ci darà la possibilità di scaricare l'audio Il tutto è scaricato con la massima qualità, ovviamente non ho notato differenze con altri converter Quindi per questo ho deciso di, appunto per queste funzioni di scaricare solo l'audio e scaricare il video Per queste funzioni ho deciso di mettere lui in quarta posizione Dallo stesso creatore di Linkgram abbiamo la terza posizione che è occupata da Regram Regram è davvero un bot fantastico per Instagram Tramite l'inserimento di un nome utente appunto nel bot Lui ci darà la possibilità di scaricare l'immagine di profilo, scaricare i post, scaricare le storie, scaricare un sacco di cose E fin qua ci sono anche altri bot che lo fanno Mi è piaciuto questo qua perché con le funzioni gratuite ci permette di fare più cose ma soprattutto anche la whitelist Voi potete inserire dei nomi utenti nella whitelist Queste sono proprio le funzioni da stalker per eccellenza Aggiungete un nome utente alla whitelist ogni volta che lui pubblicherà un nuovo post o una nuova storia Oppure cambierà immagini di profilo, cambierà un utente Potete decidere voi per cosa vi dovrà avvisare il bot appunto vi avviserà quando cambieranno queste cose Quindi per tenervi aggiornati sulla vostra vittima dello stalking I primi due gradini del podio sono occupati da due bot che fanno la stessa cosa Però davvero sono secondo me i bot che hanno proprio cambiato quest'anno Cioè non avevo mai visto una cosa del genere e mi è piaciuta tantissimo e l'ho apprezzata Quindi e siccome questi due bot sono comunque molto simili tra di loro Ho deciso di premiarli tutti e due anche se c'è comunque una preferenza tra i due Secondo posto, secondo gradino del podio occupato da Mob Coupons Bot È un bot che ci permette di generare delle offerte da McDonald's, KFC e Burger King E quindi sarebbe anche un punto a favore rispetto al primo bot Vabbè già vi ho fatto, già ho esplorato chi c'è al primo posto comunque Sarebbe pure meglio per la quantità di offerte che ci sono in questo bot Ma ci sono delle mancanze rispetto al bot che c'è nella prima posizione Che mi mancano personalmente nella mia... perché comunque è una classifica abbastanza soggettiva Quindi vabbè per dirvela tutta, quindi completiamo perché non posso più parlare Perché non posso esplorare nulla Prima posizione, Restaurant Deals Anch'esso è un bot che vi permette di generare offerte Però generare offerte solamente dall'app di McDonald's Ah tra l'altro questi bot in questo periodo che c'è il Winter Days mi pare Non funzionano alla perfezione, non funzionano come dovrebbero funzionare Comunque perché preferisco Restaurant Deals a Mob Coupons Bot? Perché su Restaurant Deals c'è il... c'è la possibilità di generare un link referral Tra l'altro questo link referral potete avere delle generazioni infinite Infatti quello che mi sono dimenticato di dirvi è che in tutti e due i bot avete delle generazioni massime al giorno Che non mi ricordo se sono tipo due o non mi ricordo Comunque sono poche e io ne vorrei avere di più Perché banalmente magari che ne so lo offro agli amici un'offerta Posso permettermelo Con Restaurant Deals c'è il referral con cui potrete invitare amici e ottenere una generazione in più Fatemi sapere la vostra classifica qui sotto nei commenti Qual è il vostro prodotto preferito di quest'anno E niente spero che questo video vi sia piaciuto Mi raccomando se vi siete persi dei video sui migliori bot li trovate nella playlist che trovate nelle schede È una serie che davvero so che vi piace tantissimo Che piace pure a me Continuiamola anche il prossimo anno sperando di trovare bot nuovi Per quest'anno questi sono i miei migliori e basta Noi ci vediamo in un prossimo video Mi raccomando iscrivetevi, attivate la campanita, lasciate un like e un commento Noi ci vediamo nel prossimo video